Potrebbe essere il DNA di Gnoto 1, la chiave di volta del giallo di Katia de Lomarino, la quarantenne trovata senza vita sul greto del torrente Afra Sansepolcro il 12 luglio. Sul corpo della donna è stato infatti isolato un campione genetico non appartenente a Katia. C'è ancora però massimo riservo da parte degli inquirenti sulla natura di queste tracce biologiche, non è ancora noto infatti se si tratta di sangue, liquido seminale, cute, capello, pelo. Quel materiale biologico potrebbe essere rimasto impresso sul corpo di Katia durante la colluttazione prima dell'omicidio, la donna avrebbe infatti lottato con tutte le sue forze per sottrarsi a quel drammatico destino. L'esito dell'esame del DNA potrà poi essere comparato con quegli appartenenti a chi in quella tragica serata potrebbe aver avuto contatti con la donna. I campioni saranno infatti inviati ai laboratori dell'Università di Pisa che si sta occupando delle analisi per il confronto. Prosegue intanto senza tregua il lavoro degli inquirenti supportati dal PM Giulia Maggiore alla ricerca di ulteriori elementi che potrebbero condurre verso l'assassino della quarantenne biturgenze. Si cerca tra i contatti della donna un ruolo fondamentale e continua a svolgerlo l'agenda della quarantenne nella quale appuntava nomi e numeri di telefono. Sarebbero già state sentite oltre 100 persone in caserma tutte residenti nei luoghi frequentati maggiormente dalla donna e dove ancora potrebbe trovarsi il suo assassino. Sansepolcro, San Giustino Ombro e Selcilama.